Nel Salone Bottiglieri a Palazzo Sant'Agostino questa mattina si è svolto l'incontro pubblico dal titolo Aere Industriali e Aere PIP in provincia di Salerno, la ZES come motore di sviluppo, le prospettive. È una legge, il 9 novembre questo decreto 124 è stato approvato in Parlamento, quindi è legge dello Stato. Dal 1 gennaio avremo la ZES Unica per il Sud, le otto regioni che voi tutti sapete. Che cosa dire? La cosa è una speranza che vada bene perché noi come regione Campania abbiamo numeri importantissimi in quest'anno e mezzo del commissariamento che poi il commissario è commissario del governo, quindi è il governo che toglie il governo. Era un governo che veniva per concludere un percorso insieme alla regione, adesso invece è un governo centrale che si pone al di sopra delle otto regioni. Vediamo che succede. L'accentramento della ZES da un punto di vista burocratico di gestione provocherà un imbuto drammatico. Ci saranno 60 persone, una struttura di missione a Palazzo Chigi, deputate a gestire oltre in proiezione 15.000 richieste di autorizzazioni per investimenti nei prossimi anni tutto il mezzogiorno. Vuol dire che dovrebbero rilasciare 5-6 autorizzazioni l'ora nei prossimi anni. È evidente che è irrealizzabile la struttura che hanno messo in piedi, che si risolverà semplicemente in un fortissimo imbuto, che bloccherà tutti gli investimenti ZES nei prossimi anni del mezzogiorno. Peraltro hanno cancellato l'unico strumento di attrazione fiscale efficace che aveva consentito di produrre e portare imprese e investimenti qui nel mezzogiorno, che era il dimezzamento dell'IRES. Ho chiesto con ordine del giorno ieri in aula di ripristinarlo il prossimo anno, ci hanno ovviamente dato parere negative e hanno rigettato questa nostra richiesta. Ad oggi non resta praticamente nulla anche da un punto di vista fiscale, perché c'è solo il credito d'imposta che riguarda tutto il mezzogiorno e che già esisteva a prescindere dal ZES. Per cui hanno smantellato lo strumento delle zone economiche speciali. E noi oggi presentando questo progetto proviamo a porre rimedio nella sostanza a un disastro che sta facendo il governo, perché non c'è più nessuno strumento di attrazione agli investimenti, di occupazione e quindi lavoro nel mezzogiorno.